Cornel è battuto all'Eldia Recina, pallone scaricato all'indietro su Tacconi, traversone di Tacconi sul secondo palo, c'è Mancini, il colpo di testa, pallone lì, e arriva il pareggio, il pareggio, il pareggio, il gol di Argalia, il pareggio dell'Eldia Recina, non si molla un centimetro e l'Eldia Recina trova subito il gol del pari. Trova il pallone per Gagliardini, attaccato in maniera irregolare da Coccia, subito la battuta di prima di Gagliardini, pallone per Conforti, Conforti mette in mezzo, ne esce un tiro, il gol, il gol di Conforti, il gol di Conforti! E l'Eldia Recina è in vantaggio, il grandissimo gol di Gagliardini, grandissimo gol da parte di Conforti, il terzo centro per il laterale classe 97.